Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo per lavori riduzione di carreggiata sino al 29 giugno dalle 22 alle 6 tra lo svincolo Fisciano e l'allacciamento con la 2 di ramazione di Napoli in entrambe le direzioni. Sulla 3 Napoli-Salerno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori e chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava di Tirreni e Salerno direzione Salerno. Sulla statale 7 Appia sino al 5 giugno dalle 7 alle 19 per lavori è attivo il senso unico alternato tra Santa Maria a Vico e lo svincolo Benevento della 16 Napoli-Canosa in tratti saltuari. Sulla statale 145 Sorrentina chiude la Galleria di Pozzano dalle 21.30 di questa sera alle 6 di domani deviato il traffico nel centro urbano di Vichequense. Sulla statale 7 bis terra di lavoro sino all'11 maggio dalle 8.30 alle 18.30 è attivo il restringimento di carreggiata tra le uscite a Cerra e Cis Interporto-Campano in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla tangenziale di Salerno sino al 31 maggio nella fascia oraria 22.6 per lavori è chiuso il tratto compreso tra le uscite Sala-Bagnano e Fratte direzione Fratte. Redazione Muoversi in Campania, Marina d'Apice. Redazione Muoversi in Campania